Nella cantina di un palazzone tutti i gattini senza padroni organizzarono una riunione per precisare la situazione 44 gatti in fila per 6 con resto di 2 si unirono con patti in fila per 6 con resto di 2 suoi baffi allineati in fila per 6 con resto di 2 le cote attorcigliate in fila per 6 con resto di 2 6 per 7 è 42 più 2 è 44 Loro chiedevano a tutti i bambini che sono amici di tutti i gattini un passo al giorno e all'occasione poter dormire sulle poltrone 44 gatti in fila per 6 con resto di 2 si unirono con patti in fila per 6 con resto di 2 con i baffi allineati in fila per 6 con resto di 2 c'è coda attorcigliate in fila per 6 con resto di 2 6 per 7 è 42 più 2 è 44 naturalmente tutti i bambini tutte le code potevano tirare ogni momento e a loro piacere con tutti quanti giocherellare 44 gatti in fila per 6 con resto di 2 si unirono con patti in fila per 6 con resto di 2 con i baffi allineati in fila per 6 con resto di 2 le cote attorcigliate in fila per 6 con resto di 2 6 per 7 è 42 più 2 è 44 Quando alla fine della riunione fu definita la fine